Sì però là è proprio sul bordo, dove passiamo il nostro corso gratuito è un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo! Mi hanno perso il bar della bianca, porca miseria, guarda la mia bottiglietta. C'è una bottiglietta lì. Grazie a tutti. Questo è giusto, quello no. Ma qua poi facciamo giù il bergamello? Eh, di qua. Guarda che spettacolo. Tienti agli alberi. No, perché quello lì è quello che sta cadendo. Ah, un po' di radici ce l'hanno. Sì, ma va, ma non c'è mica da qua. Però se arrivi qua, va che spettacolo che è. Questo è... Stai giù tanto. Ma c'è pericolo di cadere giù. No, qua è brutto, eh. No, il problema... No, bisogna stare qua perché metti che... Non è il colco. Metti come ha fatto il posto con la motosega che è topiccato e è andato. È un attimo, eh. Ma voi non ci dovete andare. No, qua. Qua, non più in là. Ma se c'è di un perino vai tu, eh. E poi tra sé ne mettiamo. Sì, adesso andiamo a 12. Non devi fare lo sfatato.